Un nome solo, Mitidieri, per due città. Dopo la tornata elettorale di ieri e dell'altro ieri, Lago Negro e Lauria si ritrovano con due primi cittadini dallo stesso cognome. A Lauria, Gaetano Giacomo Mitidieri incassa 4.462 voti, pari al 51,45%, e succede ad Antonio Pisani, di cui si dichiara continuatore. Non ci nascondiamo che l'attuale amministrazione ha lasciato sul tavolo una situazione difficile, ha commentato il neosindaco, ma a noi tocca affrontarla di petto, occupandoci in particolare dello sviluppo economico del territorio. Ottimo il risultato ottenuto dall'outsider, il consigliere provinciale d'Italia dei Valori, Angelo Lamboglia, che con 3.015 voti ottiene il 34,76% dei voti. Scivola in terza posizione invece lo sfidante del centrodestra, il consigliere regionale Mariano Pici, che ha ottenuto solo 1.196 voti, pari al 13,79%, mentre alle precedenti elezioni comunali la sua lista aveva ottenuto 1.361 suffraggi. Il risultato dimostra che il nostro partito ha battuto politicamente l'alleanza popolari PD, Socialisti, Udc ed MPA, che sostiene Mitidieri, commenta Caldo Lamboglia. Ora andremo in consiglio a fare un'opposizione leale, ma dura e senza sconti per nessuno. I più votati di questa tornata elettorale sono Giacomo Reale ed Egidio Labanca, per la lista centrosinistra per l'Auria, con 474 e 446 preferenze personali, e Donato Zaccagnini, primo degli eletti della lista a l'Auria Libera, con 465 preferenze. Mariano Labanca è invece il più votato della lista di Pici, con 292 voti personali. A Lago Negro Domenico Mitidieri prende 2.220 voti, pari al 56,97%, e subentra a se stesso. Nel 2006, infatti, è stato già eletto sindaco, ma con 2.464 voti, pari al 61,23%. Insieme a lui il più votato è stato Giuseppe De Simone, con 331 preferenze, seguito da Pasquale Mitidieri con 296, mentre Giuseppina Ammirati e Domenico Camardo hanno preso 196 voti personali. È un grande risultato, ha commentato Mitidieri, che però mi carica di una grande responsabilità e di un grande impegno necessario ad affrontare il momento difficile che vive la nostra città. Resta all'opposizione la capolista di Perlago Negro, Maria Di Lascio, che ha preso 1.601 voti, pari al 41,01%. Con lei in consiglio dovrebbero entrare Giovanni Santarsenio, Pasquale Calabria e Nicola Tortorella. Non entra in consiglio l'altro sfidante, Giovanni Torcelli, che con la lista Libertà e Autonomia Noi Sud ha preso solo 82 voti, il 2,10%. Infine, a chiudere il quadro delle elezioni nella Valle del Noce, Ludovico Giannotti succede a se stesso come sindaco di Trecchina. Già l'altra volta ha avuto vita facile, in mancanza di oppositori, e anche questa volta la sua è stata una vittoria relativamente facile sulle due liste presenti alla competizione. La sua lista, insieme per la continuità, ha preso 1.094 voti, pari al 66,82%, e ottiene 6 seggi, mentre Rita Cantisani, di Libertà e Partecipazione, ottiene 400 voti, pari al 24,43%, e due seggi in consiglio. Francesca Dall'Asta, con 143 voti e l'8,73% delle preferenze, ottiene un solo seggio in assise. Tra i candidati, i più votati sono stati Francesco Alagia e Fabio Mercante, di Insieme per la Continuità, che hanno riportato rispettivamente 167 e 158 preferenze, e Mario Battaglia, di Libertà e Partecipazione, con 68 preferenze. Grazie.